Sono stati momenti di terrore quelli di questo fine settimana nel Regino a causa di un'onda anomala di circa un metro e mezzo che avrebbe potuto raggiungere le coste calabresi. Tutta la cittadinanza è stata allertata dalla prefettura di Reggio Calabria che ha chiesto di non sostare né fermarsi in prossimità di spiagge, aree nili e aree limitrofe. Complice del fenomeno l'eruzione dello Stromboli che ha poi causato un maremoto con onde alte due metri circa. L'onda di maremoto generata dal distacco di una parte della sciara del fuoco a Stromboli ha fatto sapere la protezione civile Calabria, non ha prodotto danni sull'isola e non è stata registrata. Sulle coste calabresi la protezione civile Calabria ha successivamente comunicato in una nota che il maremoto generato dall'eruzione dello Stromboli sarebbe poi rientrato. L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha reso noto infine che l'onda anomala generata dall'eruzione dello Stromboli si è dissolta nei pressi dell'isola e che prosegue comunque il monitoraggio da parte delle autorità competenti.